Benvenuti in questo nuovo episodio di Arcade Night, il secondo di questa settimana E oggi come gioco porterò Shock Troopers Second Squad D'essere sincero questo gioco non l'ho mai giocato tantissimo Magari fatto il primo livello Però si parla di tempo fa quindi non mi ricordo una ciola E adesso dobbiamo scegliere il nostro protagonista Cioè il nostro character Abbiamo Toy, Ice Brain Toy, Lightning Ice Lulu, Ceramic Arms Angel, Lion Heart Leon E no io andrò di Lulu mi sa perché mi piace molto come spara Molto tamarro, molto bello Prima missione Ok mi ricordo che si deve sparare infatti Non posso far dire la mia prima missione Vedo che la vediamo nello stesso modo Ok Stavo ammazzando Marines, Soldati, FBI, Guerriglia, tutta cosa Sono un bambino con un giubbotto Sì ok giustissimo Giapponese mi sembra correttissimo Come avete fatto anni di allenamento Training Avete sacrificato tutto quello che avete per diventare Marines Soldati E vi fate battere da un ragazzo con un fucile strano Eh vabbè dai che macello però Comunque si si vanno a battere Ok Ups pure le bombe Molto bene, molto bene Ho trovato la W Di Addit to Abunitions Però non mi pare inizio dal W come parola No Ok 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 vai ho rotto il car armato Ah un altro car armato blu Ah ci posso entrare in questo blu penso No questo che fa porfì No No che ho fatto? Che ho fatto? Mi calze Pazzito Ok questo qui Ah posso pure caricare il pull Ok ok Beh si dai ma qui è normale che mi sparate Io come cazzo schifo da questa cosa Sono gigantesco Eh vabbè dai ho t'ha da fanculo Ah mi posso pure saltare quindi Cioè Sì Ma Cioè Schifo i proiettili 60 al momento giusto Sì ok 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 Beh penso non lo so io salto per precauzione Vai 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 Tre car armati in simultanea eh Cioè mica pizze e fighi Meno uno Non mi dovevo muoverlo sapevo Meno due Meno tre Ok ok Ho questo tipo Pure resistance against Dio cosa è Dio? Gio Gio Con Dio da? Quel Dio sta sempre in mezzo Lui non è possibile Gira che ti gira Non te lo trovi come cattivo Ah però adesso c'ho Questo Questo attacca d'aria Possiamo chiamarlo stand allora Eh ma che cazzo Che strisciate qua Sull'asfalto Sulla pavimentazione Vi vedo cretini È normale che vi asfalto Che vi asfalto Prima cosa Fanno capriole qui Sì ma va bene Oh oh Ah il nemico Alert Ah è un camion Pensavo fosse un elicottero Perché sta la hack Shoot Shoot Ah Tutte due Questo è uscito Ha uscito dei cannoni Non mi piace Come cosa Eee Olè perfetto Perfetto manca solo Questo qua Tra una serie di lingotti D'oro Wow sarebbe potuto Essere investito Ho sbagliato Mamma mia Hot dogs I don't believe it Ma neanche io Sono stato bravissimo Lol Let's go Ma la potenza Che ho Che ho dimostrato Head for Rossinger base Head for Summers bay Naval base Eee Insomma mi piacciono le barche I guess Ok Mi mentirei di aver soltanto pensato ad abbattermi O a combattermi E' stato così Uh Un ciamioncino Mamma mia il ciamioncino C'è la faccia Figa Amarrissimi Comunque Eh le cose Di questo gioco Questi camion Ma dove vuoi andare Ma dove vuoi andare E' incredibile La sono stupido Fatto Tratolla F di flame Vabbè Sì Dai Proprio Dead or alive You spin me right Like a record Come cazzo si chiamava quella canzone Va bene No ma adesso non voglio perderlo Quest'arma Madonna mia Me la sono andata a chiamare Che palle Giustamente Ah io però c'ho comunque Lo sbraccio Never mind Ok Autobots roll out Va bene Ci sono andato proprio in faccia però Devo dire la verità Eh Continuo ad andarci in faccia le cose Che sono piccolissimi i proiettili Quindi ho difficoltà a vederli Mamma mia La skill L'expertise Che mi ci richiede Per fare certe cose Vabbè Mi ha fatto fa culo Vai Ah ma non mi prende comunque Io saltavo pure Incoglionito No 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 Ecco infatti Gabbiana non c'è Ah no Pensavo sul gabbiano Avrei lanciato la molotov Avrei preso Ok Così continuano a fare i capriole Però mi hanno ammazzato Comunque sì Ok Primo coin Se ne va Come mette il secondo Così A questo punto Faccio Toy Che aveva se mi sbaglio Tipo un laser Eh Figo il laser Ah se tengo premuto Faccio il beam ray Così Un altro car armato Dei container Di real Cioè di quelle cagate Che fanno su D-Max Dove comprano Andate a fanculo però I container incredibili Vanno a rivendere La merda Che ci trovano dentro Sì Esattamente C'ho una Ah ok Quindi la bomba è diversa Questo giro E' più bella Deve essere un'esco E infatti No No Ok Ah no Che è un cazzo Quello Copre la visuale No Questi cosi Tengono roba Sì La finale La devo attrappare Mi sa No Forse si Non lo so Non sto capendo Un cazzo Oppure questo è il bello Di questa serie però Che comunque Giochi arcade Non è che erano I più esplicativi E certe volte Erano ingiusti Per nessun motivo Se non Quello di farti mettere Soldi E appunto Enjoyable I guess Ah e poi da vicino Utilizzo un taser Va bene ci sta Ok Dove sto andando Esattamente Ah Ah Ok E il tag Longo Non matter where Ah ok In seguimento Alert Di nuovo Scusami Che cosa stai affrontando Esattamente Ah uno di questi Ok Shoot shoot Su tutta una serie di zone Ma le bombe valgono ancora Sì No 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 Non ci siamo capiti Ah Vai di secondo Gettone Cioè no Terzo gettone E a sto punto Provo La signorina Angel Che comunque Magari Giusto per variare La nostra Quota rosa Che bombe C'ha lei Queste Va bene Ok 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 Voglio almeno arrivare Al secondo livello C'ha il terzo Così Giusto per varietà Vabbè ma mi fai un attacco Mi perdo tutta la vita Ok No 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 Io provo pure a fare le mosse No 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 Deveva far curo Utilizzo Posso utilizzare Muro il terzo Non mi interessa Di morire Non mi va Di morire Non mi va No 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 E invece E invece Sono morto Eeeh Peccato I guess Vabbè sapete cosa Yolo Proviamo Leon Eeeh Pace No perché Non mi muovo Che tipo di bombe Hai Vabbè Vorrei saperlo Magari se colpissi Sarei pure più contento Noo Faccio schifo Non c'è verso Faccio schifo In tutti i giochi Io Vai vai Così Non mi piace Eh Faccio schifo A vera Non piacere No 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 Eeeh Vabbè Vaffanculo Così tutte le bombe Vai Mangia di questo Cuglione di merda Nave bastarda Vai No Vai L'ho finita L'ho finita L'ho finita L'ho finita L'ho finita Scusami Scusami Ok 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 Mamma mia Che terrorre Quando posso A fianco così No 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 Eh ma Vabbè Non fa E ripone Uno ci prova pure Eeeh E niente Questo Classify Va bene Game over Eeeh Questo sarà L'episodio di Questi Di questa Domenica Di Arcade Night Il nostro giorno della settimana Per la tua pazienza Eeeh Spero che il video vi sia piaciuto Se avete suggerimenti Su altri giochi da portare Per questa rubrica Fateveli sapere E noi ci vediamo In un prossimo video Arrivederci Eeeh Già Già Alla much Grazie Grazie a tutti.